Ehi amiche, ci vediamo l'8 maggio, avanti si inizia un cammino speciale. Personalmente ho sempre avuto nel cuore la cura di questi bambini e l'aiuto alle loro famiglie, alle loro mamme. È stata una cosa nata da un'esperienza di un vissuto e poi da cosa nasce cosa, è diventata un'esperienza impegnativa, molto impegnativa. Accogliere bambini e anche mamme. Essere volontario vuol dire con Miriam imparare il non giudizio, vuol dire imparare l'amore gratuito, vuol dire condividere quello che si ha, perché con voi e grazie a voi riusciremo a fare un passo più avanti con la nostra nuova sede. Il vostro aiuto ci aiuterà ad adottare una stanza, la stanza dei bimbi, quello che voi desidererete. Grazie. I proventi saranno proprio per la nuova sede che si trova in via Blanco e che a giorni avranno inizio i lavori di ricostruzione. Grazie.